In diretta do il buongiorno e benvenuto a Simona Colarizzi, storica, è rimasto con noi Massimo Franco, l'avevamo annunciato all'inizio della trasmissione, parliamo in quest'ultima parte della trasmissione di uno scoop storico, nel senso che riguarda la storia ma che ha riverberi importanti, che Massimo Franco ha fatto pubblicando per la lettura una lettera e anche un'intervista a chi l'ha conservata, cioè un archivista del Vaticano, Giovanni Coco, in questa lettera scritta da un gesuita tedesco al segretario di Pio XII, Papa Pacelli, in questa lettera ci sono già notizie su che cosa accadeva nei campi di concentramento, è una scoperta molto importante e riapre una questione del, in realtà si sapeva anche durante, non si è scoperto dopo, si sapeva anche durante, la lettera del dicembre 1942. 1942, esatto, allora io vorrei chiederti subito naturalmente questa scoperta, il fatto che dopo tanti anni, intanto è l'unica lettera, è la prima ed è l'unica conservata. Ma intanto credo che sia l'unica che hanno trovato l'archivio apostolico Vaticano, e la cosa a mio avviso molto indicativa è che l'archivio apostolico abbia deciso di aprire a tutti la consultazione di questo materiale, ma da quello che mi pare di capire... Una lettera che la regia spero possa far vedere, perché l'abbiamo presa naturalmente dalla lettura all'inserto culturale del Corriere. Sì, e dicevo che lì la cosa molto interessante è che l'archivista Giovanni Cocco, che è uno dei più apprezzati dal prefetto dell'archivio apostolico, Monsignor Pagano, dice che probabilmente dalla lettera si capisce che ce n'erano altre, ma non è chiaro se siano state distrutte o siano andate perse, perché poi questa lettera pare di capire che abbia avuto un percorso abbastanza avventuroso, nel senso che era tenuta all'interno dell'archivio della Segreteria di Stato Vaticana, che è parallelo a quello apostolico, che insomma non stesse questo documento in ottime condizioni, e quindi non si capisce bene se qualcuno o non avesse capito bene cosa ci fosse, e soprattutto se gli altri documenti siano stati conservati, perché questo Koenig, questo gesuita tedesco che faceva parte della resistenza antinazista in un circolo che era di protestanti e cattolici contro i nazisti, dice chiaramente in questa lettera che ce n'erano altre, fa un riferimento ad altri messaggi che aveva mandato. Che cosa dice esplicitamente sui campi di concentramento? Parla esplicitamente di alti forni nei quali in un campo di lager, campo di concentramento è poco, al confine tra Polonia e Ucraina venivano sterminati circa 6.000 tra polacchi ed ebrei al giorno, e poi fa un riferimento anche ad Auschwitz e a Dachau, che era se non sbaglio, adesso non ricordo bene, il lager dove veniva tenuto il clero. E però dice anche, e questo è interessante per capire anche l'atteggiamento di Papa Pio XII, state attenti a non far filtrare nulla, perché se per caso i nazisti entrassero in Vaticano e trovassero qualcosa, saremmo tutti morti. Quindi è una lettera che fa capire anche quanto terrore ci fosse nel mondo cattolico rispetto a un nazismo che al di là della forma vedeva il Vaticano e il Pio XII come un nemico. Quindi questa lettera dice che nel 1942 c'era chi già sapeva che erano campi di sterminio e appunto non solo campi di concentramento. Simona Colarizzi, come si deve inquadrare questa scoperta e la sua importanza? Comunque è una scoperta.